Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi cosa troverò nella dodicesima casellina dell'Avento di Essence. Il calendario è questo, sapete che l'ho acquistato perché me l'ho trovata benissimo con quello dell'anno scorso e quindi volevo ripetere l'esperienza. Ci ritagliamo un momento insieme in cui aspettare il Natale tutti insieme e nel mentre vi mostro che cosa sto trovando, quella frase del giorno. Siamo già arrivati alla casellina numero 12, la casellina numero 12 è questa dove ci ha disegnato il cupcake, questa è leggermente più larga e più piccola come casellina, vediamo insieme cosa c'è. La frase del giorno dice Great eyebrows don't happen by chance e ho trovato praticamente delle pinzette. Io delle pinzette di Essence ne avevo provato un paio che avevo trovato in un kit che ho acquistato circa due state fa, non mi erano piaciute perché erano molto dure e facevano male, adesso vediamo se sono dello stesso tipo. Comunque in generale sono davvero carine perché comunque ci sono i disegnini del Natale, sono tutte bianche, qui hanno addirittura questa ferma pinzette che non so se poi effettivamente lo utilizzerò o lo cestinerò, però sono davvero carine proprio perché ci hanno disegnate tutti, praticamente sembrano quasi dei pinguini, però sono più che altro dei pupazzi di neve, c'hanno un curicino, la scritta Essence, non so sono davvero carine hanno una forma leggermente diversa rispetto alle altre, adesso vediamo se effettivamente mi piacciono. Fatemi sapere se voi li avete mai acquistati e come vi trovate con le pinzette di Essence. Fatemi sapere cosa pensate di questa sorpresina, se anche voi preferite quando ci sono le sorprese di make up, fatemi sapere se voi state facendo qualche calendario dell'avento dove trovate prodottini di make up, se volete consigliarmene qualcuno che è ancora disponibile. Se è piaciuto il video mettete mi piace e ci vediamo domani, ciao! Ciao!